addio a ottaviano del turco sindacalista socialista vivace e colto addio a ottaviano del turco il sindacalista socialista venerdì scorso il movimento sindacale italiano ha perso uno dei suoi rappresentanti più illustri ottaviano del turco un stimato sindacalista socialista è scomparso all'età di 75 anni la sua morte rappresenta una significativa perdita per il movimento socialista in italia che ha influenzato profondamente negli ultimi decenni del turco è stato considerato una figura influente impegnata per i diritti dei lavoratori e la giustizia sociale era visto come una persona con una conoscenza notevole che andava oltre i confini del sindacato molti compagni di lotta hanno sottolineato che il suo atteggiamento positivo e il suo sorriso radioso erano non solo motivi di ispirazione per gli altri ma anche un esempio per numerose generazioni di sindacalisti attivisti ecco la traduzione del testo in italiano è stato coinvolto nel movimento sindacale negli anni 80 e ha rapidamente scalato le posizioni diventando uno dei leader ha svolto un ruolo cruciale nella creazione e nel rafforzamento dei sindacati in sicilia la passione con cui svolgeva il suo lavoro è stata vista da molti come un esempio da seguire la sua convinzione che l'uguaglianza sociale sia di fondamentale importanza ha portato a numerose iniziative che hanno migliorato la vita di molti lavoratori i suoi colleghi riferiscono spesso che del turco è stato un vero pioniere del progresso sociale i suoi ideali erano indissolubilmente legati alle sue azioni con cui ha sempre cercato di rafforzare la voce della classe lavoratrice nei dibattiti politici inoltre del turco si è anche impegnato per l'istruzione la cultura poiché era fermamente convinto che la conoscenza fosse la chiave per l'emancipazione delle persone nel corso della sua carriera del turco sapeva anche quanto fosse importante il dialogo tra i vari attori sociali sottolineò ripetutamente che lo scambio di idee e il compromesso possono portare a una società più armoniosa questa convinzione influenzò molti dei suoi approcci politici spesso fungeva da mediatore in casi di conflitto e cercava di trovare soluzioni sostenibili il suo impegno non rimase senza effetti nemmeno nell'ambito politico ieri sti bersetzung des textes auf italienisch così durante il suo mandato come deputato ha promosso numerose riforme destinate a migliorare le condizioni sociali in italia non è mai stato controverso ma ha goduto di un ampio riconoscimento oltre i confini dei partiti con la morte di ottaviano del turco non si conclude solo una carriera impressionante ma anche un'era caratterizzata da lotte sociali e progressi senz'altro ecco la traduzione del testo in italiano subito la sua opera continuerà a vivere nei cuori delle persone che sono state toccate dalle sue azioni e dalla sua capacità di persuasione il movimento sindacale sentirà profondamente la sua assenza molti dei suoi compagni di viaggio sottolineano la necessità di preservare il suo lascito e di portare avanti le tematiche per cui si è battuto in un momento in cui la coesione sociale è sempre più messa alla prova gli insegnamenti di del turco ci ricordano che l'impegno per condizioni di lavoro giuste per la giustizia sociale non è mai vano